ora cari sono sulla luna sono occupato lascia stare oh 20 euro è la mia carta d'identità quello come ti chiami? banca centrale europea bici e banca centrale europea è vero c'è anche la mia età 20 anni anche la nazionalità europea grazie ma sei stupido sembra una carta d'identità infatti no non lo sapevo che pochino